Tenere un regime alimentare corretto e bilanciato è buona regola sempre, durante tutto l'arco dell'anno. In aiuto a questo fate salve alcune condizioni patologiche che impongono altri regimi alimentari. In questa mission, alle volte abbastanza impossible, viste le tante tentazioni a cui siamo sottoposti, soprattutto d'estate, c'è la tanto nominata e famosa dieta mediterranea, classificata dall'UNESCO nel 2010 come niente meno che patrimonio universale immateriale. Ma a parte consultare l'abecedario gastronomico mediterraneo, quali sono in estate le correttezze, le accortezze che con l'inanzamento delle temperature dobbiamo tenere presente? La prima è quella di rispettare gli orari e il numero di pasti privilegiando la colazione, quindi non appesantirsi nella seconda parte della giornata. Un'altra è quella di aumentare la frutta e la verdura, perché? Perché d'estate si suda, ci si espone al sole, questo determina una perdita e un consumo di vitamine, ma soprattutto di sali minerali. La frutta estiva che possiamo consumare sono le ciliegie, sono le pesche, l'anguria, il melone, tutti i frutti rossi. Per quello che riguarda invece la verdura e vale lo stesso discorso, c'è quello di preferire cibi come i peperoni, le melanzane, i pomodori, i cetrioli, la rucola, la lattuga, la cicoria, rappresentano i cibi che sono i più digeribili. Fare dei piccoli pasti dove si privilegiano dei cibi che sono cotti non in modo pesante ci può aiutare per un discorso di salute. Ma ci sono anche alcuni luoghi comuni di cui spesso siamo vittime un po' tutti e che è bene sfatare, sempre a vantaggio della nostra salute. Uno dei primi errori è quello di pensare che la frutta secca sia un cibo più invernale che estivo. Invece è proprio il contrario perché quando viene a mancare per esempio il potassio che è un minerale importante, ecco che la frutta secca diventa indispensabile. Noci, nocciole, mandorle sono dei cibi assolutamente che dobbiamo mangiare di più paradossalmente. Un altro errore è quello di esagerare con i latticini. I formaggi stagionati sono quelli più digeribili che però d'estate dovrebbero essere limitati. Non pensare di assumere proteine soprattutto d'estate solo dalla carne, quindi limitarla buttandosi sul pesce. Dunque tutto chiaro, idratarsi, abbassare l'apporto calorico, non eccedere nelle quantità, già le giuste quantità. Ma come facciamo a sapere quali sono le giuste quantità? È messa e molto chiara, cinque porzioni tra frutta e verdura, un frutto e una porzione di verdure sono circa 200 grammi. Ricordarsi un po' di queste regole risulta interessante e proprio per noi importante.